Ciao a tutti ragazzi Fragolosi e Bananosi, primo vlog del 2017, questi ragazzi Bananosi, prima vlog, oggi andiamo a lezioni di canto per provare le canzoni di zia Wilma, stiamo al centro commerciale Ocean, prima tappa, perché dobbiamo andare a prendere l'acqua, perché per la lezione di canto ci vuole un poco d'acqua, perché se no il gargarozzo e il gola and friend se ne va a farsi benedire. E ragazzi, io entro perché faccio una cosa, come si dice qua dalle mie parti su e su e, a vola a volo, e prendo l'acqua, perciò buona missione acqua per me. Bellezza, operazione acqua, fatta, fatta perché non si può stare senza acqua, ragazzi ricordatevi sempre di bere due litri di acqua al giorno, o se no arrivate a bere dagli 8 ai 10 bicchieri di acqua al giorno, il primo deve essere quando vi sossegite, quando vi alzate dal letto, e l'ultimo deve essere quello quando vi andate a colicare. Questi sono i consigli della zia, ricordatevi, per avere un fisico snello come quello della zia dovete ascoltare i suoi consigli. Oh, qua c'è la Kiko, ecco qua, la Kiko Cosbeth, vabbè, io vado a impazzire per il make-up, e adesso andiamo a fare l'altra operazione, andiamo dal signor Umberto Sanzelmo, andiamo a recuperare il Sanzelmo perché andiamo alla US Records, perché andiamo a fare la lezione di canto. Io per uscire da questo Auschalmo sto facendo mille, 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 mille gigli perché hanno cambiato un po' il percorso per l'uscita. Ragazzuoli, missione, arrivati alla US Records, per la lezione di canto, stasera, operazione sopracciglia, perché qua dobbiamo togliere tutto qua. Sì, stasera operazione sopracciglia, sì, perché sennò facciamo il monociglio e che tipo. Vabbè, a parte ciò, noi andiamo a cantare, andiamo un po' a sfugare con le cancioncelle di zia Wilma, e poi dopo andiamo a prendere lo zio al lavoro e andiamo anche a prendere lo cialino dalla suocera, perché non so chi è cialino, se andrebbe a vedere il mio amico peloso. Il mio amico peloso, perché c'è anche il tag il mio amico peloso 2.0, dovete vedere il mio amico peloso. Conoscete Cialino? E che dirvi? Io inizio, perché sennò qua non ricominiamo più, vado a cantare. Noi ho un amico peloso, perché sennò qua non ricominiamo più, vado a cantare. Quando spingono mi rai, poi non torno. E io che sono un po' a faviglioso, subito mamma che è in questa casa, a chi vuole bello e spingono il francese, a chi vuole spingono, a chi vuole. Ragazzi bananosi, fragolosi, pocciosi. Allora, io vi saluto, perché abbiamo terminato alla OS Record, abbiamo terminato il ventilatore. Vabbè, ciao anche dal ventilatore. Abbiamo terminato, sì, perché andiamo a fare altre cosucce, e più tardi l'unica missione della sera è andare a prendere lo zio, e poi dobbiamo passare dalla società della Wilma, perché dobbiamo andare a prendere il Cialino. Ecco, io vi saluto, e alla prossima. Ah, mi dimenticavo, in qualche commentino ho letto perché ragazzi fragolosi e baranosi, in qualche video vi spiegherò anche perché. Vi saluto con ragazzi fragolosi e baranosi. Allora, ciao!